Bene, oggi andiamo ad affrontare il tema della valutazione. È un tema molto spinoso che naturalmente richiede molto tempo per approfondirlo in maniera adeguata. Tenteremo, qui io sempre e Marcello, che ringrazio sempre di essere insieme a me in questa avventura, tenteremo di dare soltanto qualche breve indicazione, premettendo che delle rubriche di valutazione da cui potete estrapolare degli indicatori che vi possono essere utili, li potete trovare anche nel curriculum mapping. Casomai alleghiamo anche un tutorial del curriculum mapping in questa sezione proprio per farvi vedere dove potete trovare queste rubriche che sono soltanto appunto delle indicazioni, perché non ci sono delle legislazioni, c'è la legislatura definita soprattutto per la secondaria di secondo grado e anche per le competenze di cittadinanza. Ci sono invece i traguardi per quanto riguarda le indicazioni nazionali del primo e del secondo ciclo e anche dell'infanzia. Anzi ultimamente c'è stata anche una modificazione, una specificazione sugli apprendimenti, sui traguardi e sulle competenze da far acquisire ai bambini e quindi aggiorneremo anche a breve il nostro curriculum mapping con queste nuove indicazioni date dal Ministero. Quindi si sta andando verso una valutazione delle competenze che diventa essenziale a fronte di una didattica a distanza, perché nella didattica a distanza la valutazione delle conoscenze è un po' più problematico e ciò che fanno i ragazzi invece sulla rete nella didattica a distanza dimostra proprio uno sviluppo di competenze che noi non possiamo non andare a valutare. Detto questo, quando facciamo una griglia, la dovremmo fare subito la griglia di valutazione, soprattutto fare due tipi di griglie che vengono unite, no? Ma una deve essere condivisa con il consiglio di classe, che sono le indicazioni, sono le griglie che vanno a osservare e valutare il livello raggiunto dei ragazzi delle competenze appunto trasversali che il consiglio di classe ha individuato essere fondamentali, un livello da raggiungere alla fine dell'unità di apprendimento che si va a configurare. Oppure addirittura la valutazione delle competenze che i ragazzi devono raggiungere a fine dell'anno, fine anno, in relazione a quello che il collegio docenti ha deciso essere il livello che devono raggiungere i ragazzi in quell'anno scolastico, secondo se sono di prima, di seconda, di terza, di quarta o di quinta o negli indicatori nazionali anche in riferimento sempre all'ordine di scuola a cui noi ci stiamo riferendo. Un'altra cosa invece è proprio la valutazione dell'unità di apprendimento che richiede una osservazione molto più pratica se vogliamo ma in relazione al progetto che abbiamo creato e quindi si andrà a valutare il processo dei ragazzi, si va a valutare il prodotto che i ragazzi vanno a creare, che è il lavoro finito di cui parlavamo, che è il modo di descrivere da parte dei ragazzi quell'unità di apprendimento e poi anche le metacognizioni e l'autovalutazione, è importantissima l'autovalutazione. Cioè all'interno di un'unità di apprendimento i momenti in cui fermare i ragazzi a riflettere sul percorso che stanno portando avanti e capire se stanno svolgendo un percorso che li aiuta nel loro processo di apprendimento, se stanno, se si rendono perfettamente conto di quello che è il loro richiesto, di quello che loro stanno producendo e del lavoro che stanno svolgendo. Cioè l'autoriflessione che poi si può fare con tanti strumenti anche online, ma di questi tutti gli strumenti noi non li abbiamo mai trattati in questi video, ma è chiaro che ogni step ha catalogato degli strumenti che possono aiutare moltissimo tutte le operazioni che si compiono nel momento in cui si svolge un progetto all'interno della classe, sia che si sia in presenza che sia che si sia a distanza. Chiaro che gli strumenti magari saranno diversi, ma molto spesso sono strumenti digitali appunto che ci aiutano nel processo, nel percorso che stiamo portando avanti. Quindi l'autovalutazione è un momento di riflessione fondamentale, anche perché aiuta molto il docente a capire se i nostri ragazzi stanno effettivamente seguendo, perché se si annoiano, hanno altre esigenze, non riescono a capire perché stanno facendo un determinato lavoro, voi capite che noi dobbiamo modificare la progettazione che avevamo creato. Ecco questo si rifà al discorso iniziale, quando abbiamo detto un'unità di apprendimento è un canovaccio che inizia nel momento della progettazione, ma che si modifica o si può modificare man mano che si svolge quel progetto e il momento dell'autovalutazione dei ragazzi è un momento estremamente importante anche per noi per capire se stiamo sulla strada giusta e quindi anche le metodologie che abbiamo messo in atto, se sono corrette o non corrette o se effettivamente dobbiamo modificare qualcosa nell'ambito del nostro progetto, magari rallentare, magari avere degli obiettivi diversi, magari le conoscenze che pensavamo loro potessero acquisire con facilità, magari invece non le hanno acquisite, quindi insomma rimodellarla, rimodellizzarla e fare in modo che la unità di apprendimento venga definita soltanto alla fine del progetto stesso, allora in quel punto diventa definitiva. L'osservazione che noi facciamo del modo, del processo, di come lavorano i nostri ragazzi è quello che noi dobbiamo andare a valutare e quindi il prodotto che loro vanno a creare sarà oggetto anche di valutazione, ma attenzione che è una valutazione diversa rispetto al processo che loro mettono in atto. Mi spiego, se loro fanno un bel powerpoint perché o un bel video rispettando tutti i canoni della comunicazione video, della comunicazione di una slide, perché ci sono dei canoni anche di correttezza, lo sfondo, il font, se hanno evidenziato i concetti chiave, oppure se nel video è breve ma è essenziale, efficace, se la musica rispetta anche l'argomento, i nodi concettuali che loro i concetti base che volevano mettere in atto. Insomma ci sono delle valutazioni di tipo tecnico e potremmo anche valutare quegli aspetti, ma non sono certo questi gli aspetti che ci possono portare ad una valutazione del processo che i ragazzi mettono in atto. Attenzione anche a non valutare semplicemente la relazione finale come accade in certe metodologie didattiche, perché la relazione finale che il gruppo di lavoro fa talvolta rispecchia più le loro conoscenze piuttosto che il processo con cui loro sono giunti a quel tipo di sintesi finale. Ecco, quello che il docente dovrebbe sforzarsi di valutare è proprio come si giunge a quella sintesi finale. Poi loro lo esprimono anche bene, magari fai delle domande, approfondisci anche gli argomenti, ma in quel caso puoi anche valutare il modo con cui loro si esprimono, la comunicazione, se riescono a rispondere a tutte le domande in maniera fluida, cioè si possono dare anche valutazioni sulle modalità espositive, ma quello che interessa è perché e come siamo giunti a quella sintesi finale, che tipo di ricerche loro hanno svolto per giungere a quella sintesi, quali siti sono andati ad osservare, a leggere, a studiare, perché ne hanno scartati alcuni e invece ne hanno accettati altri, come li hanno rielaborati, come hanno discusso le varie fonti che possono essere cartacee, possono essere digitali, cioè l'analisi di come si è svolto il loro processo di apprendimento. Quindi è fondamentale osservarli sempre. Il problema di alcune metodologie è quello che molte attività loro, quando si è in presenza, le svolgono a casa, cioè noi magari offriamo, diamo loro degli spunti, loro fanno delle ricerche, oppure noi gli diamo del materiale, i ragazzi lo studiano, ma magari lo fanno non quando siamo in presenza insieme a noi, sia virtuale sia fisica, ma lo fanno in forma autonoma. In quel caso per noi è molto difficile comprendere le difficoltà che hanno trovato i ragazzi nel prendere quel tipo di argomento, che tipo di ricerca hanno fatto, come si è svolto il loro apprendimento di quei concetti e questo è una parte che invece noi dobbiamo sempre tenere in considerazione. Noi dobbiamo cercare, cercare di osservare tutte le fasi del loro, del loro processo. Quindi c'è una valutazione, ritorno quindi una valutazione di tipo delle competenze di cittadinanza che non richiede poi un voto, ma è un giudizio, un livello di raggiungimento di quelle competenze da parte dei ragazzi e c'è una valutazione più strutturata sull'unità di apprendimento che poi va a ricadere naturalmente sulla valutazione delle competenze disciplinari o anche delle conoscenze disciplinari. Quindi è un po' una gerarchia, no? Molto ben strutturata. Ecco perché il suggerimento è individuate pochi elementi, altrimenti vi viene una griglia di valutazione enorme. Ogni studente dovrà avere la sua perché ogni studente avrà un livello di partenza, un livello di arrivo differente, no? Quindi è come un pagellino che voi dovete andare a creare individuando il livello raggiunto dai vari ragazzi. Oltretutto nelle competenze di cittadinanza i livelli devono essere concordati o con il collegio docenti o con il gruppo aria o con il consiglio di classe di riferimento. Quindi si dovrebbe essere tutti d'accordo almeno sugli indicatori e sugli descrittori di questi livelli. Mentre l'unità di apprendimento i livelli vengono definiti o dai docenti che partecipano a quella unità di apprendimento se è una valutazione trasversale che coinvolge più discipline oppure il gruppo d'aria suggerisco se è una unità di apprendimento prettamente disciplinare. Quindi attenzione a quando si creano anche queste griglie. Non tanti tante voci perché diventa poi diventa anche per noi no? È estremamente complesso valutare tanti tanti indicatori ma essenziali e riferiti proprio agli obiettivi minimi che noi dobbiamo andare a raggiungere. Vuoi continuare magari ad integrare tu Marcello? Sì un altro aspetto della valutazione rimanda al compito autentico o come alcuni lo chiamano il compito di realtà. Questo è un altro elemento importante che la didattica per competenze diciamo differenzia rispetto anche ad altri approcci come quelli tradizionali che la scuola ha conosciuto. Il compito autentico è un momento in cui in modo più o meno guidato anche perché qui bisogna capire a che punto siamo nel percorso di sviluppo dei ragazzi e possiamo quindi prevedere dei compiti in cui rispetto ai due indicatori della responsabilità e dell'autonomia noi mettiamo alla prova veramente le competenze dei ragazzi. Sono compiti che non devono essere noti a certe diciamo prassi didattiche in contesti che siano realistici e che fondamentalmente ci danno la misura di quanto i ragazzi di tutto il lavoro che è stato fatto durante l'età. È un momento che completa una valutazione che è quella che hai raccontato tu Dianora perché è chiaro che siamo in un momento in cui in un percorso formativo non tutti sono ancora in grado di assumere un compito in modo autonomo e responsabile però ci indicano un livello e fanno capire al ragazzo al bambino al ragazzino e quali sono i propri punti deboli nella propria nella propria gestione di questo compito e soprattutto di solito sono compiti sfidanti sono sono compiti che hanno una natura di risolvere alcuni problemi e che quindi si innestano proprio nel concetto proprio di competenza e quindi è proprio questo che li rende diversi e li rendono diciamo qualitativamente migliori se vogliamo veramente valutare le competenze. Si possono fare in tanti modi ce ne sono molti esempi anche anche online e c'è chi li fa fare alla fine di un'unità di apprendimento quindi la mette un compito autentico alla fine proprio di un percorso di unità che sia pluridisciplinario che sia disciplinare oppure vengono creati dei compiti alla fine di un anno scolastico o di un quadrimestre questo è lasciato molto alla libertà e all'organizzazione delle scuole però è un aspetto importante della valutazione perché appunto ci fa vedere cioè mette alla prova veramente quelli che sono i limiti soprattutto nella gestione del compito non tanto nelle conoscenze ma proprio in tutte quelle capacità che comunque poi noi ritroviamo in uno sviluppo cioè nella costituzione di una persona della personalità di una persona e quindi anche di un cittadino. Ma sicuramente poi i compiti autentici compiti in realtà guardate che diventano una verifica che è molto importante perché per i genitori per i ragazzi per noi stessi ovviamente per noi docenti per la verifica di cui ha parlato Marcello ma è anche una verifica scritta no no e quindi ha un voto oltre che indicarci i livelli che i ragazzi hanno raggiunto in certe competenze ma possiamo estrapolare anche se hanno acquisito effettivamente delle conoscenze nel momento in cui si fa un compito o di realtà un compito autentico. Non è così complesso strutturare questi compiti ma questo andrebbe molto più approfondito ovviamente. Quello che è secondo me è essenziale comprendere è che noi dobbiamo preparare questa griglia degli obiettivi che noi ci prefissiamo e anche sia a livello appunto di competenze di cittadinanza sia a livello di valutazione dell'unità di apprendimento nelle sue varie fasi sia per le valutazioni delle competenze e conoscenze disciplinari ecco questa griglia deve essere esplicitata come una pagella proprio data ai ragazzi o elaborata addirittura con i ragazzi per far capire loro perché si deve svolgere un certo un certo lavoro qual è il livello che noi pensiamo sia essenziale che loro raggiungano e come noi vogliamo che loro lo raggiungano. Questo è fondamentale lo devono avere sin dall'inizio e lo stesso identico pagellino tra virgolette con tutti questi indicatori di scrittori e il livello raggiunto deve essere consegnato ai ragazzi anche ai genitori ma ai ragazzi alla fine del quadrimestre o dell'unità di apprendimento. Ha una valutazione numerica? Questo è il dubbio che molti ci dicono ma in fin dei conti io posso poi mettere che tipo di voto metto sul registro di classe perché sul registro di classe, nel registro elettronico noi mettiamo normalmente i voti delle interrogazioni dei compiti in classe evidentemente che si basano essenzialmente sulle conoscenze. È complesso e direi quasi non corretto trasformare i livelli raggiunti dai ragazzi in un voto numerico che vada a far media usiamo con i voti sulle conoscenze. Questo deve essere un'impostazione che deve dare il consiglio il collegio docenti. Io ricordo un seminario, un convegno dove ero con il professor Nicoli che è un grandissimo studioso della didattica per competenze e gli è stata proprio rivolta questa domanda dove è stato chiesto ma professore che voto alla fine dell'anno scolastico, il voto delle competenze che peso ha nella valutazione finale e lui ha detto guarda teoricamente sarebbe buona cosa che ci fosse una media dei voti delle conoscenze date dai compiti in classe e dalle interrogazioni un voto numerico sui livelli raggiunti dalle competenze da parte dei ragazzi deciso però in maniera condivisa neanche dal consiglio di classe ma dal collegio docenti che prende una posizione in questi termini e il voto del compito autentico della prova esperta che si fa alla fine dell'unità di apprendimento. Questi tre voti hanno il peso uguale 33 33 33 e la media viene fuori da questi dalla sintesi e dalla media di questi tre voti. Onestamente io questo non l'ho visto quasi mai applicare cioè lo dico con estrema onestà. Quindi perché ancora la valutazione delle competenze parliamo delle scuole secondarie di secondo grado ma anche nel primo grado eh ancora mh ha delle problematiche eh proprio che eh devono essere ancora risolte ma comunque quella griglia che noi andiamo a creare entra nel portfolio dello studente che avrà comunque raggiunto determinati livelli alla fine dell'anno scolastico e fa parte del suo curriculum no? Del suo curriculum che è anche di uscita nel momento in cui andrà nel mondo del lavoro. Comunque sono tutti temi che si dovranno affrontare o si potrebbero affrontare molto più precisamente no? Eh io eh se volete guardare anche il curriculum mapping per chi ha la licenza per entrare nel curriculum mapping nella consultazione voi trovate ribadisco dei suggerimenti non essendoci una normativa definitiva ci sono dei suggerimenti eh tratti dai eh da mh dai documenti ufficiali o di ufficio scolastici regionali o dell'indire comunque guardati e visti anche approvati dal ministero che possono e devono essere sempre trasformati eh dal consiglio di classe o dal collegio docenti ehm quindi o del gruppo d'aria secondo dai dipartimenti secondo come è strutturata la scuola eh però ecco vi abbiamo dato soltanto delle brevissime indicazioni che ribadisco vi chiederebbero molto un approfondimento decisamente maggiore eh che potremo fare in altra occasione. Intanto vi ringrazio e al prossimo video.